...uno dei più grandi dischi della musica strumentale rock degli ultimi decenni, Liquid Tension. Grazie per la visione! 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 L'ultimo lavoro di Skolnik passato totalmente inosservato con Michael Mannering al basso e Tim Alexander alla batteria. Un grande lavoro! Alex Skolnik, l'ex chitarrista dei Testament con la sua ultima formazione. Alex Skolnik! Grazie per la visione! 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 Alex Skolnik, ex Testament! Andiamo a risentire in un altro brano la grande carellata di Ottavanota per questa grande serata e poi immediatamente dopo la grande novità di questa puntata. Vini more a la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!